Siamo nel campo di correnti a pelo libero, non proprio di questo tipo, sono molto eleganti queste correnti, ma certamente tratterebbero un argomento un po' particolare, sono correnti naturali queste. E vedete che la lezione riguarda il passaggio attraverso lo stato critico, il risalto idraulico, di cui abbiamo già fatto cenno nella quinta lezione, e naturalmente il moto permanente nei canali, quello che abbiamo già visto, con profili del pelo libero separati dal risalto idraulico. Ecco, allora, vediamo innanzitutto di andare avanti ancora sulla parte sul risalto vero e proprio, quello che abbiamo visto, quello studiato da Giorgio Bidone, per intendersi. Ecco, vedete questa bella figura che ci onora, perché è la figura fatta proprio da Giorgio Bidone, nato nel 1781, come vi dicevo, ahimè mancato molto presto, 1839. E vedete subito qua, vedete questa specie di salto, questo qui, ecco, questo qua, che poi Giorgio Bidone ha riconosciuto essere un risalto, come lo chiamiamo adesso, o come diciamo, salto di Bidone in onore di Giorgio Bidone. Bene, siamo arrivati a scrivere, nella scorsa lezione, che prendevamo l'equazione globale di equilibrio in condizioni dinamiche, e proiettando questa relazione nella direzione del moto, trascurando la componente peso, o meglio, tenendo conto del fatto che la componente peso del volume che consideravamo equilibrasse le azioni di attrito, naturalmente non abbiamo messo in conto, o inoltre, le azioni di carattere locale, le inerzie locali, perché il moto è da ritenersi, in questo caso, mediamente permanente, quindi con tutte poi le alcune precisazioni che io, per la verità, non ho fatto, e sarebbero legate anche alla stazionalità di un moto turbolento, quindi entriamo un po' in un campo alquanto difficile, accettiamo che questi termini vadano via, così come vi avevo accennato, bene, allora vedete che abbiamo considerato quel pi greca 1 più m1, che è la parte all'ingresso, chiamiamolo così, del volume che consideravamo, pi greca 2 più m2 era quella che riguardava la parte all'uscita, si fa per dire, del volume che consideravamo, e allora, ecco, che qui, ecco, c'è la componente statica, che è questa, e questa è la quantità di moto, eh, della portata, quindi una quantità di moto di una portata in massa, quindi non vorrei che i meccanici razionali si inorridissero, ma naturalmente si parla sempre di una forza, eh, non una quantità di moto, poi dimensionalmente, ma di una portata in massa, e quindi naturalmente c'è un tempo che fa scomparire nella massa per velocità, fa scomparire il tempo, e quindi sono sempre forze di questo caso qua. Bene, questa quantità, questa, vero, prende il nome di spinta totale, eh, con riferimento al nostro caso che stiamo considerando, spinta totale. Come si presentano queste relazioni, questi due addendi? Vedete che c'è un termine che cresce, questo, questo qua, eh, con l'area, quindi cresce con le altezze dell'acqua, e poi c'è un'altezza qui che è l'altezza del baricentro, l'affondamento del baricentro rispetto al pelo libero, e quindi abbiamo un termine che potremmo chiamare di tipo quadratico, anche se qui non appare immediatamente. Mentre qui abbiamo, nel secondo addendo, abbiamo l'area al denominatore, e quindi quanto più l'area è naturalmente piccola, eh, naturalmente questo termine va via via diventando sempre più piccolo. Viene dunque da pensare, non da pensare, si presenta dunque in queste condizioni, in queste condizioni qua, ecco, abbiamo una situazione, la spinta totale, si presenta, vedete, ecco, nei due addendi. E cioè, abbiamo la pi greca 1 o pi greca i generica, eh, nelle varie sezioni, che cresce in questo termine, come abbiamo detto, vedete questo qua, questo, vedete, cresce così, e poi abbiamo invece l'altro termine, questo, questo qua, che va via via decrescendo. Attenzione a non confonderla con l'energia specifica, eh, qui abbiamo, sulle ordinate, abbiamo la spinta totale, eh, non abbiamo l'energia specifica, ecco, questo è quello qua. Bene, il grafico si presenta in questo modo, vedete, questo tipo qua, è abbastanza comprensibile che sia un grafico di questo tipo, questo, che va naturalmente, man mano che ci spostiamo verso destra, questo termine qui diventa sempre più piccolo, e quindi questo grafico qui, questo, è sempre più vicino alla pi greca 1, in questo caso qua, pi greca i generica, pi greca generica. Bene, quello che è importante ed è fondamentale da tenere presente, è questo, che se io prendo l'espressione della spinta totale, così come ve l'ho fatta vedere, e vado a cercare per quale altezza questa spinta totale risulta minima, io vi faccio grazia, faccio vegna di questa derivata, ma non è il caso certamente di perdere il tempo in queste condizioni, si nota, guarda caso, che la spinta totale è minima per l'altezza critica che già conosciamo nell'assegnato canale per quella assegnata portata. Quindi questa altezza critica K è un'altezza, come dire, intorno a quale ruotano tante cose, non soltanto naturalmente l'energia specifica minima, con tutte poi le conseguenze che abbiamo visto prima, quando abbiamo parlato dei profili, e adesso evidentemente siamo in una situazione invece di tipo importantissimo sicuramente, ma riguarda invece il risalto idraulico. Ecco, allora, in queste condizioni, vedete, io farò un piccolo calcolo numerico, anzi, vi farò vedere un piccolo calcolo numerico, è comodo in questi casi fare riferimento a un canale rettangolare, badate che questo risultato vale per qualunque canale, qualunque forma sia il canale, sia ben chiaro, ma io prendo a riferimento il canale rettangolare per comodità di calcolo, sia ben chiaro che, appunto, non vado a considerare un caso per cui vale solo quella certa situazione. Bene, siamo nel campo delle correnti veloci, siamo nel campo delle correnti lenti, su questo è soltanto un richiamo di questo tipo. Bene, adesso che cosa tiriamo fuori? Vedete, c'è scritto valutazione dell'altezza coniugata. Per altezza coniugata nel risalto, si intende, o per altezze coniugate nel risalto, si intendono le due altezze, una di corrente veloce e una di corrente lenta, per le quali si verifica il risalto. E quando si viene a verificare questo risalto? Quando la spinta totale dell'una è uguale alla spinta totale dell'altra, cioè l'azione statica più la quantità di moto della corrente veloce che viene da sinistra, e la spinta totale rappresentata, naturalmente, dall'azione statica più la quantità di moto della corrente lenta, quando questi due valori sono uguali, naturalmente, lì, ivi, ivi si fa per dire, non nella sezione, come abbiamo detto, ma in quel piccolo tratto, molto breve, qualche metro per intendersi, avviene il risalto idraulico. Ecco, allora, vedete che se il canale è rettangolare, si ha un'equazione semplice, oserei dire, è un'equazione simmetrica nelle due altezze H1 e H2. H1 è l'altezza di corrente veloce, H2 è l'altezza di corrente lenta, e K è l'altezza critica che noi conosciamo una volta che abbiamo il canale rettangolare, la portata per la quale vogliamo studiare il fenomeno del risalto idraulico, e quindi, naturalmente, siamo nelle condizioni di risolvere questa equazione. Chiaro che, noto H1, per esempio, quella sezione contratta sotto un'apparatoia, proviamo H2, ovvero, noto H2, possiamo trovare H1, o uno o l'altro, intanto le due relazioni sono, naturalmente, dello stesso tipo, in cui K, vedete, è la radice cubica, che ormai dovreste conoscere a memoria, e spero lo ricordiate, alla radice cubica di Q quadro diviso GL quadro, L essendo la larghezza del canale, Q è la portata e G, ovviamente, è l'accelerazione di gravità su questo, non c'è dubbio. Allora, nota una, troviamo l'altra, nota H1, troviamo H2, o nota H2, troviamo H1, queste sono le due relazioni, vedete? Ecco, noto H1, per esempio, ripeto, la sezione contratta sotto l'apparatoia, si ha H2 uguale a meno H1 mezzi, è un'equazione di secondo grado, è quasi vergognoso che ve lo dica, ma insomma è ovvio, c'è il segno più, perché altrimenti verrebbe un H2 negativo, che non avrebbe senso, e poi c'è H1 quarti più due volte K al cubo diviso H1, e questa è una semplicissima equazione di secondo grado, sì, di secondo grado, se il canale è rettangolare, se non è rettangolare si deve andare un po' per tentativi, per risolvere l'eguaglianza delle due spinte totali, non è che ci sia niente di particolare, ma così conviene ragionare un po' in questi termini qui, ecco, noto H2, guarda caso, si ha H1 uguale, si risolve, sono un'equazione simmetrica, quindi evidentemente l'espressione che si risolve è sempre dello stesso tipo. Ecco, quindi siamo un pochettino in queste condizioni. Allora, partendo da H1 noto e trovato H2, o partendo da H2 noto e trovato H1, in quel grafico che sembra una specie di parabola, che poi parabola non è, ma lo dico soltanto per distinguerlo bene da quello che è l'energia specifica in funzione di H sulle ascisse che ha quella sintetica a 45 gradi, ecco, vedete che adesso abbiamo l'altezza H1 e l'altezza H2 che sono le due altezze coniugate nel risalto, come si dice coniugate nel risalto e sono quelle due altezze alle quali, come vedete qui, vedete questa orizzontale compete la stessa spinta totale, ecco, metto qui su questo puntino qua, in questa posizione, ecco, questa è la situazione che ci consente naturalmente di trovare il risalto. Devo subito dire e fare una piccola precisazione. Il fenomeno del risalto idraulico inteso come questa corrente molto veloce, diciamo in senso comune delle persone, o noi intendiamo molto veloce, nel senso che molto al di sotto dell'altezza critica, che si va a coniugare nel risalto idraulico alla corrente lenta con un'altezza molto superiore all'altezza critica K, non sempre è così, e cioè quando le due altezze coniugate, vedete qui, eccole qua, queste due altezze coniugate, H1 e H2, danno luogo a una orizzontale, ovvero le due altezze sono abbastanza vicine all'altezza critica K, pensate per esempio a un'orizzontale messa qua con un H1 vicino a K di poco inferiore a K e un H2 di poco superiore a K, il fenomeno del risalto idraulico si presenta in modo leggermente diverso, non così come abbiamo detto, questo salto, seppure è limitato, c'è un fenomeno che si chiama risalto ondulato, ma questo non ha molta importanza, o meglio, ha importanza ingegneristicamente, io vorrei anche segnalarvi una cosa, pensate di avere per esempio uno scivolo, non voglio parlare di diga perché è troppo importante, comunque è uno scivolo in cui corre dell'acqua e noi vogliamo dissipare parte di questa energia, ebbene, è abitudine cercare di mettere degli ostacoli a valle di questo scivolo, per fare in modo che la corrente batta contro questi ostacoli, dissipi l'energia, anzi addirittura questi ostacoli spesse volte sono realizzati in modo che la corrente di uno viene deviata contro la corrente di un altro in modo che ci sia una dissipazione di energia. Bene, devo dire che questa soluzione non sempre è tra le più felici, a mio avviso, e credo che molti siano convinti così, non dico la mia idea, ma credo di poter dire l'idea si può dire di tutti, vero? È che se vogliamo dissipare bene dell'energia dobbiamo fare avvenire a piede di questo scivolo un fenomeno di risalto idraulico. Quindi questo ha una grandissima importanza nel campo del, diciamo in senso lato, delle costruzioni idrauliche. Se non volete proprio pensare a delle dighe, perché una diga in un fiume è un po' difficile che si realizzi, vero? Sì, certo, ma dovremmo essere in montagna, eccetera, pensate anche a una semplice traversa fluviale per dissipare questa energia che se passa, diciamo, della corrente che passa sopra questa traversa, normalmente si cerca di far avvenire un fenomeno di risalto idraulico. Ecco, questa è un po' la situazione. Quindi vi ho voluto segnalare che il fenomeno del risalto idraulico non è soltanto una questione di interesse scientifico, ma direi anche un notevole interesse di carattere tecnico. Chiarito questo, adesso, noi dobbiamo fare un altro passaggio, altrimenti naturalmente la cosa rimane un po' monca, e cioè qui c'è ecco una corrente che scende, non è proprio un vero e proprio fenomeno di risalto idraulico, è una corrente naturale di questo tipo, vedete, di questo tipo, è stata messa a questa situazione, ecco, allora noi vogliamo vedere invece come si presentano questi profili che siano separati dal risalto idraulico, quali siano questi profili. Ecco, allora, ecco, seguiamo la corrente, seguiamo questa corrente, bene, la corrente che proviene da Monte ha incontra un'apparatoia, anzi, anzi, essendo una corrente lenta, vedete, questa, al di sopra dell'altezza critica e addirittura al di sopra del moto uniforme, questa corrente non è che arrivi contro l'apparatoia e si acceca, questo sarebbe naturalmente una corrente veloce, sarebbe così, bene, questa corrente defluisce, ecco, questa corrente da luogo a regime, ovviamente, ha un profilo che è questo, che vedete, questo qua, defluisce sotto l'apparatoia, questo è un profilo D3, è di corrente veloce, e naturalmente in questa sezione avviene il fenomeno del risalto idraulico, dopodiché il profilo scende, naturalmente, vi è una chiamata, questo è un profilo D2, questo, di corrente lenta, perché siamo al di sotto dell'altezza critica, e naturalmente qui invece abbiamo una corrente veloce, in questo alveo a forte pendenza, è un profilo F2, che abbiamo chiamato, abbiamo un'altezza di moto uniforme, lo vedete lì bene, che tende asintoticamente all'altezza di moto uniforme H01, di corrente veloce, perché è sotto l'altezza critica, e si ha questo fenomeno del risalto idraulico qui, in questa sezione, adesso poi, come debba essere valutato qui e non in un'altra posizione, lo vediamo successivamente. Questo è il profilo di 1, ecco, per richiamare, l'equazione differenziale è quella che vedete lì a sinistra, il numeratore è positivo, il denominatore è positivo, non sto neanche a ripetere queste cose, quindi dH su dS nella direzione del moto è positivo, e quindi vedete che le altezze qui, vero? scusate, ecco, queste altezze non si vede, ma comunque queste altezze vanno crescendo, come vedete, si discostano sempre più naturalmente dal moto uniforme, questa è la situazione. Ecco, questo è un profilo di 1, come vi dicevo, questo qua invece è un profilo di 2, questo qui, di corrente lenta anch'esso, vero? Il denominatore è minore di 0 perché siamo sotto l'altezza di moto uniforme, e quindi dissipiamo di più che il moto uniforme, dE su dH, questo qua, è maggiore di 0 perché siamo sempre nel campo delle correnti lente, quindi siamo a destra dell'altezza critica K, e quindi conseguentemente numeratore minore di 0, denominatore maggiore di 0, dH su dS, vedete qui, eccolo qua, dH su dS è minore di 0 ed ecco la chiamata di questo profilo, per quello che vi posso fare, eccolo qua, questo profilo, ecco, e abbiamo poi questo terzo, il terzo profilo, che è un profilo di corrente veloce, siamo sotto l'altezza di moto uniforme, sotto l'altezza critica, quindi evidentemente in queste condizioni abbiamo una corrente che va salendo in queste condizioni, e naturalmente il profilo di 2 e che abbiamo visto prima e il profilo di 3 è separato dall'altezza, dal fenomeno del risalto idraulico, altrimenti il D3 continuerebbe a salire, 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 arrivato all'altezza critica K e succederebbero dei guai energetici e raggiungeremmo il minimo, quindi certamente c'è qualcosa che non funziona, ci sarebbe qualcosa che non funziona in queste condizioni. Bene, qui abbiamo un altro esempio, io cerco di andare un po' sinteticamente, vedete che cosa abbiamo? Abbiamo un alveo a debole pendenza a monte e un alveo a forte pendenza a valle. Allora, nei limiti di quello che possono essere queste figure, guardate subito questo qua tende asintoticamente all'altezza di moto uniforme, qui abbiamo dovuto fermare il disegno, dovevamo forse andare un po' più sul dritto, ma ne abbiamo già parlato prima di questo, vedete che c'è una corrente lenta, questa, che subisce una chiamata, questa qua, qui vedete, c'è un profilo asintotico, un F2 veloce, che tende all'altezza di moto uniforme, ma poi vi è qui una paratoia dovuta, inserita, in una traversa, eccetera, e ecco il profilo F1 di corrente lenta, e allora il passaggio tra la corrente veloce di monte e la corrente lenta di valle, questa non può che avvenire attraverso un fenomeno del risalto idraulico, ecco, in questo modo qua, questo che vedete, ecco, l'F1 è quello che vi stavo dicendo, l'F1 naturalmente è crescente, vi faccio grazie del numeratore e del denominatore che ormai lo conoscete già, idh su ds è maggiore di zero ed ecco naturalmente le altezze vanno via via crescendo e qui siamo comandati come si dice in gergo ma una bella espressione, siamo comandati dall'apparatoia, dalla traversa che ci dice che il profilo deve partire da quel punto lì per intendersi, questo è il profilo F1 di cui parlavamo, F1 di corrente lenta, mentre invece questo è un F2 di corrente veloce e anche qui naturalmente dato il numeratore maggiore di zero ma il denominatore minore di zero perché siamo nel campo delle correnti veloci e quindi naturalmente a sinistra dell'altezza critica K è vero ecco che dh su ds eccolo qua dh su ds diventa minore di zero e quindi ecco che le varie altezze vedete vanno via via per quel che si può vedere vanno via scendendo e tendono asintoticamente all'altezza di moto uniforme questa ne è vero di corrente veloce siamo in quelle condizioni in mezzo ovviamente c'è il fenomeno del risalto idraulico questo è quello che noi naturalmente stiamo esaminando ecco anche qui su tutte queste situazioni naturalmente si possono fare n casi tanti quanti se ne vogliono naturalmente ecco io vorrei richiamare ecco questo qui è il profilo di corrente veloce non l'ho neanche ve l'ho detto a parole ma richiamamolo subito prima di parlare ancora ecco questo è il profilo che parte qui dalla sezione contratta eccola qua la sezione contratta qui è stata messa così va bene meglio ancora poi naturalmente il profilo tende asintoticamente a questa altezza di moto uniforme questa qua quella altezza di moto uniforme qui abbiamo fatto una gobetta ma diciamo il disegno si fa quello che si può naturalmente comunque abbiamo già detto che questo profilo questo parte da questo orizzontale e poi tende asintoticamente all'altezza di moto uniforme quindi è un po' più teso tanto per intendersi ma i disegni naturalmente hanno sempre qualche piccola inevitabile imperfezione bene questa è la situazione naturalmente anche voi ne potreste fare n casi ma state soltanto attenti che non sempre poi le cose sono così semplici da maneggiare da manipolare nel senso che si può presentare naturalmente qualche situazione un po' delicata ecco io ho fatto un caso particolare perché perché mi piace ricordare tanti errori fatti da me fatti dai giovani studenti perché anche io sono stato studente perché spesse volte non si sa bene cosa può capitare cosa può succedere allora vedete vedete un canale indefinito vedete di altezza di moto uniforme quindi sarà un alveo debole pendenza ecco di questo tipo e in questo canale c'è un'altezza di moto uniforme vedete quella lì c'è un'apparatoia e io dico attenzione eh attenzione io dico che si forma il risalto idraulico è poi proprio vero oppure no cioè arriva la corrente con altezza di moto uniforme l'H0 questa vedete H0 vedete qui così passa sotto l'apparatoia avviene il risalto idraulico riprende l'altezza di moto uniforme è possibile o no in queste condizioni non è possibile perché il fenomeno del risalto idraulico è un fenomeno dissipativo allora non può arrivare la corrente con la sua brava altezza di moto uniforme vedete passare sotto l'apparatoia senza dissipare fare la dissipazione e riprendere l'energia specifica di prima beh allora a questo punto qua chi è che gli ha fornito l'energia non c'è mica nessuno lì che gli fornisce dell'energia vedete quindi che questo non è possibile tante volte si fa questa riflessione ci si chiede tante volte qualcuno si può chiedere questo e io so di fare un caso un po' particolare ma voglio anche segnalarvelo in modo che qualche volta vi suoni un campanello d'allarme per intendersi guardate bisogna verificare se le due altezze H1 e H2 determinano le due spinte S1 e S2 se sono coniugate nel risalto se lo fossero coniugate nel risalto avverrebbe questo ma allora non torna più tutto quello che abbiamo fatto prima evidentemente in queste condizioni allora che cosa avviene in realtà vedete eh per fare i conti bene per fare i conti bene noi dobbiamo ragionare così innanzitutto al solito prendiamo l'alveo il canale di tipo rettangolare ripeto quello che sto facendo vale non solo per il rettangolare ma vale per qualunque tipo di alveo ma le figure le formulette eccetera sono per il rettangolare un po' più semplici un pochettino più semplici allora vedete che si lavora su delle quantità di carattere adimensionale l'energia specifica riferita a K e era una lunghezza eh dimensionalmente attenzione è una lunghezza diviso K e la spinta totale riferita a K al quadrato eh che si possano a dimensionalizzare a K e a K al quadrato le due grandezze E ed S consentitemi naturalmente di dirvelo così rapidamente eh vedete E è uguale a H più Q quadro diviso 2G L quadro H quadro canale rettangolare K è la radice cubica di Q quadro eh radice cubica di Q quadro diviso G L quadro ed ecco che praticamente abbiamo l'energia specifica basta dividere per K e si adimensionalizza diventa praticamente un termine adimensionale H su K più 1 su 2 K quadro eh questo qui è di X quadro non H quadro su K quadro eh questo termine qua invece eccolo qua scusate ecco H su K più 1 su 2 H su K al quadrato eh questa è l'espressione eh lo scrivevo dicevo così a memoria ma non è sbagliato era solo che avevo detto un termine sbagliato allora la spinta totale S uguale un mezzo gamma L quadro diviso Rho Q quadro di L quadro io divido per gamma e per L questa relazione quella lì la spinta totale intanto deve essere la stessa a sinistra a destra quando le due spinte totali devono essere uguali fra di loro ebbene allora vedete l'espressione che ha meno di gamma e di L che deve conservarsi nel risalto viene fuori S viene fuori quell'espressione spero che sia qua così eccola qua si ottiene S su K quadro uguale un mezzo H quadro su K un mezzo H su K al quadrato più 1 diviso H su K in quel modo questo ci consente di fare dei grafici più significativi ripeto quello che facciamo per il rettangolare però vale anche per qualunque altro canale questo sia ben chiaro allora in queste condizioni vedete in queste condizioni ecco che cosa abbiamo qui qui abbiamo E diviso K perché sicuramente questa retta sintotica è quella che compete all'energia specifica ecco naturalmente questa qua è la E su K dove è andata a finire l'E su K eccola qua è stata messa come seconda espressione allora l'energia specifica è dimensionale abbiamo detto che presenta un minimo per il canale per l'altezza critica K la S presenta un minimo per l'altezza critica K quindi ecco che tutte e due le curve presentano un minimo per K H su K uguale a 1 in questo caso avendo reso la cosa adimensionale bene allora vedete qui abbiamo una S1 su un E con 1 su K e un S1 su K quadro una certa altezza bene qui abbiamo l'H0 quella della nostra corrente che era in arrivo H0 su K però vedete che questa qua ha un S0 su K quadro molto più grande quindi cosa vuol dire che in quella figura che vi ho fatto vedere in quella figurina la spinta totale della corrente di moto uniforme è molto più grande della spinta totale della corrente veloce qualora questa corrente veloce fosse quella che mi viene generata dal passaggio sotto l'apparatoia con l'altezza di moto uniforme di K in quelle condizioni l'altezza di moto uniforme H0 a monte cosa succede quindi questa qua spinge sto facendo proprio il disegno così spinge naturalmente la corrente lenta spinge questa contro l'apparatoia la corrente di veloce perché lei la corrente lenta ha una spinta totale maggiore vedete eccola qua ecco e quindi ecco che S0 maggiore di S1 e viene fuori una figura che non è quella che noi speravamo o pensavamo di questo tipo ma vedete che abbiamo una situazione di un risalto rigurgitato quindi non è così bello semplice come siamo portati a pensare in queste condizioni bene e allora come fare se volessimo vedere in questa posizione un risalto nel vero fisico come lo vediamo siamo abituati a vederlo e noi dobbiamo abbassare un po' un po' abbassare l'apparatoia qua questa apparatoia eccola qua questa vedete questa qua abbassarla in modo che per poter defluire questa portata deve guadagnarsi dell'energia lungo la strada a monte e quindi qui arriverà naturalmente con una energia specifica più grande rispetto a prima so che è un tema piuttosto delicato questo di quale vi sto trattando ma bisogna che ve ne abbia fatto cenno ed ecco allora che in queste condizioni se io vedete ho proprio abbassato moltissimo la paratoia il tagliente dell'apparatoia l'ho abbassato moltissimo ecco che allora naturalmente abbiamo un'altezza h1' dove è eccola qua molto più piccola abbiamo una naturalmente una spinta totale grandissima e questa mi spinge verso valle quello che è l'altezza supponendo che sia quella di moto uniforme naturalmente potrebbero verificarsi mille altre soluzioni ma stiamo parlando in questo caso come se a valle non ci sia più niente che disturbi la nostra corrente ecco io mi rendo conto che sono argomenti di notevole difficoltà vi invito naturalmente a rivederli a ripensarci sui testi che poi verranno forniti ci sono questi testi ci sono questi argomenti proprio volutamente segnalati come possibile errore ecco quindi vedete che qui questa volta abbiamo un risalto libero quello che riteniamo essere il risalto naturalmente che abbiamo considerato ecco e se qui non ci fosse per esempio vedete qua l'altezza di moto uniforme che cosa succede? bisogna calcolare le spinte totali della corrente veloce qua ed è la corrente lenta adesso vedremo per vedere che cosa succede ecco quindi si può dire la figura oserei dire definitiva in questo caso vedete? allora abbiamo un profilo di corrente veloce che conoscete sicuramente che è il profilo D3 abbiamo un profilo di corrente lenta che è un profilo D2 di corrente lenta che è in queste condizioni allora man mano che la corrente veloce si innalza vedete diventa sempre più grande la sua spinta totale va diminuendo raggiungerebbe un minimo per l'altezza critica K ma man mano che la corrente lenta si oserei dire si innalza ma in realtà diciamo procediamo a ritroso naturalmente aumenta la sua spinta totale perché raggiungerebbe il minimo in corrispondenza di questo punto qua quello della corrente lenta quindi per sapere qual è la sezione nella quale si viene a verificare il risalto idraulico ecco naturalmente quello che noi dobbiamo fare questa è questa qui è la spinta in corrente lenta la spinta totale della corrente lenta vedete che ha quell'andamento perché naturalmente questa tende all'altezza di moto uniforme quindi tende a un valore sintotico e anche la spinta di corrente lenta questa qua invece è la spinta della corrente veloce questa qua la quale man mano che si innalza ha delle altezze chiedo scusa ha delle spinte di corrente veloce spinte totali naturalmente sempre in questo senso questa è la S della corrente lenta e della S della corrente veloce ecco in questo punto qua vengono a coincidere queste due altezze quindi la spinta della corrente lenta e della corrente veloce sono le stesse e allora vuol dire che in quella sezione lì si verrà a realizzare il risalto certo bisogna andare con molta attenzione fare i conti con molta attenzione altrimenti c'è rischio poi di sbagliare un pochettino le cose ecco tutti questi casi che abbiamo visto sono dei casi nei quali inevitabilmente per esempio qui nel risalto tanto per intendersi avvengono dei fenomeni dissipativi e sono molto importanti ci sono dei casi nelle correnti in un canale dove il fenomeno è poco dissipativo ci sono dei casi e allora entriamo tutto in un altro campo cioè entriamo in un campo con fenomeni con minime dissipazioni di energia specifica o energia è meglio di energia che dovremo poi inevitabilmente considerare in un altro argomento se li mettiamo adesso c'è rischio di fare una gran confusione e di mescolare troppe cose quindi nelle prossime lezioni noi parleremo di fenomeni con minime dissipazioni di energia vi ringrazio di essere qui venuti a sentire ascoltare e ci vediamo alla prossima lezione grazie e arrivederci